Il diritto alla salute da riconquistare è la sfida per la sanità territoriale. E' stato questo il tema dell'incontro che il sindacato pensionato ICGL di Trapani ha tenuto oggi nella sala conferenza della Camera di Commercio. La sanità territoriale ha la sua peculiarità e quella di effettivamente avvicinare il cittadino al servizio che viene offerto e che purtroppo questa unione tra cittadino e servizio non è mai sempre rispettato soprattutto nei tempi e nei termini in cui questo deve avvenire. Però noi siamo qui come SPI e come ICGL proprio perché vogliamo raccogliendo le criticità che ci vengono formulate dai cittadini essere da cassa di risonanza, di essere sempre pronti lì, da sprone. Quali sono queste criticità in particolare? Le criticità in particolare sono le liste di attesa, le liste di attesa per le prestazioni perché queste sono interminabili. Nonostante si venga detto che le liste di attesa sono state azzerate, che ci sono stati dei grandissimi progressi, noi non riteniamo assolutamente che sia questa la situazione, riteniamo che le liste di attesa sono state effettivamente diciamo sgravate da tutta una serie di prestazioni che il cittadino non aveva più interesse ad aver erogato, ma le liste di attesa ci sono e soprattutto non sono rispettati i tempi previsti per l'erogazione delle prestazioni. E poi non possiamo più consentire che un cittadino vada al pronto soccorso e che il pronto soccorso sia una continua corsa al malato, va bene, entra tu, entra quell'altro. Dobbiamo rafforzare le dotazioni organiche. Sappiamo che si parla di quasi 50 medici del pronto soccorso che sono assenti, sappiamo, capiamo che ci sono delle difficoltà a recepire questi medici, ma noi non possiamo non tutelare i nostri cittadini.